Vuoi venire stanotte a cena a casa? Va bene Però tanto mamma lo so che dice di no Perché? Non lo so perché Devi provare ad andare Prova a chiederglielo tu Tanto ti dice di sì Invece se glielo chiedo io Dice di no Allora prova a chiederglielo io Signora mamma di Daniele Dimmi Può venire Daniele oggi a cena a casa? A cena sta No no Oggi no dai Facciamo un altro giorno e lo lascio andare ok? Lo vedi Lo vedi Perché? No ho già preparato la cena a casa dai Organizziamo un'altra volta e lo lascio andare Mia mamma ci teneva tanto Ah tu mamma Ma come rientra? Lo riportate voi in macchina? Sì lo riportiamo noi in macchina come finiamo di cenare Mi raccomando mangia tutto a non farmi fare brutte figure La prima o l'ultima volta Sì mangio a tutto Vai Allora Ciao